Signori, Arthur The King, film storia vera di una specie di gara di sopravvivenza con un cagnolino. A me non è piaciuto, dico la verità. È un 2024, gli darei sei e mezzo. Troppo si vede che è un po' spinto come film, cioè spinto nel senso forzato. A parte che a me Marco Weber, come si chiama, non mi è mai fatto impazzire. Però via, a me non è piaciuto. Basta così, un saluto a tutti, se volete iscrivetevi al canale, se volete lasciate un like. Sei e mezzo, ve l'ho già detto?